Tanta buona per tutti ragazzi, qui mi sta Franca che vi parla, bentornati con questo nuovo video e siamo qui oggi ragazzi con la seconda parte della guida al main easter egg di Shaolin Shuffle Iniziamo quindi da dove ci siamo lasciati, ossia dopo aver completato la traduzione diciamo del codice Morse in una sequenza di tre numeri, questi tre numeri dovrete andare in giro appunto e ricercarli all'interno di un poster di Nightmare Summer qui era dove vi avevo lasciato con il video precedente Una volta che avrete trovato il poster corretto, quello con il numero corretto nella parte bassa sulla sinistra premete quadrato interagiteci per raccoglierlo Una volta che avrete fatto dovrete portarlo sul tetto della discoteca e lì troverete un faro diciamo tipo quello di Batman dovrete fare la stessa cosa, dovete mettere il poster sul riflettore praticamente e noterete che comparirà una X su una delle finestre laterali praticamente fuori da quella zona dovrete colpirla con una granata, dovete far sì che la granata esploda proprio all'impatto quindi tenetevela un po' in mano, bisogna che sia una granata normale altri tipi di granati non funzionano a nessuno quindi dovete avere almeno un giocatore in squadra con le granate normali rimaste Una volta che l'avrete fatto inizieranno a spawnare alcuni zombie ninja fate anche le kill di questi zombie ninja che sono spawnati sul tetto noterete che adesso su alcune pareti del tetto appunto della disco sono comparsi dei simboli come quelli che ci sono nell'armadietto che abbiamo aperto con la chiave dopo il primo step di questo easter egg ciò che dovrete fare è completare una parola che ha per iniziale la lettera che notate su uno dei muri del tetto quindi in base all'iniziale che avete dovete pensare delle parole significative per easter egg di infinite warfare in generale o di questa mappa nello specifico cosa dovete fare per completare questo step? ogni simbolo corrisponde una lettera trovate l'alfabeto, diciamo la traduzione dell'alfabeto di questi simboli in descrizione link al nostro sito quindi guardateci perché come per il codice morso appunto l'unica maniera è fare così troverete anche un elenco delle parole confermate fino adesso appunto che si sa funzionano per questo step quindi se trovate ad esempio una S un esempio potrebbe essere Shaolin oppure trovate una P potrebbe essere Pam Grier insomma c'è un elenco nel link in descrizione all'articolo al nostro sito che racchiude le parole che sono state confermate fino adesso una volta che avete completato questo step completate la parola scompariranno tutti i simboli scomparirà anche la parola che avete scritto sul muro e possiamo passare allo step successivo potrete che nella zona dei tetti subito sopra al nuovo perk ci sarà un altro di quei simboli di ratto per terra illuminati con i quali interagirete e farà spawnare un'altra volta insomma il re dei ratti per avviare una seconda mini boss fight come quella di prima dovrete colpire il boss ucciderlo insomma si metterà in modalità scudo per alcune alcune volte sponerà i zombie ninja niente di nuovo rispetto a prima quindi fatelo uccidetelo e quando l'avrete fatto noterete che potrete raccogliere il suo cervello andate a parlare di nuovo con Pam e noterete che a questo punto inizieranno a comparirvi sullo schermo dei pallini neri bruciati come quelli che si vedono nei vecchi film che sono appunto salvati su pellicola e appunto inizieranno a comparirvi ogni round questo perché dopo tre round da quando parlerete con Pam praticamente dopo pochi secondi dall'inizio del round skipperà praticamente tre round e vi farà spawnare di nuovo con gli zombie nella zona praticamente lì fuori dal dojo e non potrete uscire da quella zona perché sarà bloccata dal fuoco quindi dovrete resistere praticamente a fare una resistenza piuttosto breve all'interno di quella zona una volta che l'avrete fatto potrete raccogliere una parte verde che la vedrete abbastanza evidente lì in giro per quella zona che praticamente è un pezzo di un tornello che una volta raccolto dovrete portare appunto allo spawn in quella serie di tornelli vedrete che ce n'è uno rotto interagiteci e invece lo farete praticamente tornare in sesto diciamo fatto questo andate in quel vicolo diciamo che porta alla disco dalla zona da fuori dal dojo prendete quindi subito a destra continuate per quel vicolo salite su quella scala di legno praticamente quel soppalco che non c'è niente praticamente saliteci arrivate in cima sulla sinistra noterete una finestra all'interno della quale c'è un altro di quei simboli del ratto quindi sparate vedrete che si chiuderà la finestra e quindi avrete fatto correttamente anche questo step a questo punto inizierete a notare dei cerchi gialli come quelli che avevamo già visto nello step in uno degli step precedenti in cui appunto dovrete fare altre kill di zombie all'interno di quel cerchio quindi iniziate a girare per la mappa gli spawn sono casuali e possono essere in qualunque zona quindi girate un po' insomma la mappa non è gigantesca quindi dovreste trovarli abbastanza agilmente sono cinque da quanto abbiamo visto iniziate quindi a fare kill stando voi dentro il cerchio non è importante che gli zombie siano dentro il cerchio ma è importante che voi facciate kill stando in piedi dentro al cerchio fatto questo sentirete un gong dopo quattro o cinque volte appunto che farete questo step sentirete un gong a indicare che avrete fatto correttamente tutti i passaggi necessari a questo punto si può passare alla step successivo che richiede per essere avviato di interagire con la console nella discoteca nella parte superiore praticamente nel corridoio subito prima delle scale che portano al tetto e fatto questo noterete che sponerà uno zombie con una sfera disco sulla loro testa e con questa aureola verde diciamo lo scopo di questo step è uccidere questo zombie specifico che ha la palla sulla testa quando altri zombie sono nei suoi paraggi perché uccidendolo questo alone praticamente verde con la sfera del disco verrà trasferita ad un altro zombie quello che dovrete fare sostanzialmente è uccidere in sequenza praticamente questo zombie con la sfera disco in modo che si passi questa sfera disco a altri zombie e fare una catena così di kill soltanto di quello zombie lì facendo in modo che ogni kill che fate questa alone venga trasferita ad un altro zombie se uccidete lo zombie disco quando non ci sono zombie nei suoi paraggi o c'è soltanto uno zoppo o altre situazioni un po' strane vedrete che l'aureola diciamo non viene trasferita a un altro zombie ma si perderà nell'area dovrete fare un paio di kill insomma in modo che lo zombie spawni nuovamente con la sfera disco fatto questo mi sembra che ci sia un gong anche qui altrimenti comunque vi accorgerete perché non spawnano più zombie e noterete che adesso fuori dalla disco prima della zona del pack a punch c'è ancora un altro simbolo del ratto come sempre interagiteci sponerà di nuovo il re dei ratti e inizieremo una nuova e terza mini boss fight sponeranno ninja zombie sponeranno varie cose voi uccidete insomma il re dei ratti una volta che l'avrete fatto avrete modo di raccogliere il cuore del re dei ratti noterete che ce l'avete come praticamente granata letale quindi la potrete utilizzare al posto delle granate a questo punto dovremo andare a parlare con Pam all'interno del dojo una volta che lo farete però attenzione perché non appena andrete nella zona della boss fight si avvierà in automatico quindi se dovete potenziare le armi fare altri potenziamenti prendere altri perk eccetera ricordatevi che non potete andare giù alla zona della boss fight se avete già parlato con Pam altrimenti basta non parlare con Pam finché non siete pronti poi un ragazzo va a parlare con Pam gli altri lo aspettano direttamente giù alla boss fight e si avvia istantaneamente così iniziamo la boss fight che è la parte naturalmente finale di questo easter egg ed è composta da tre parti praticamente ci sono tre step che vanno ciascuno intervallato con una sequenza in cui va ucciso praticamente il re dei ratti quindi non appena voi entrerete nella boss fight dovrete concentrare il fuoco sul re dei ratti finché non sentirete un gong a questo punto potremo scegliere quale step intraprendere iniziamo per semplicità con quello degli occhi dell'occhio praticamente che è il più semplice praticamente raccogliendo nella parte diciamo perimetrale di questo cerchio che compone la boss fight noterete che ci sponeranno cervello, cuore e occhio sono i tre step praticamente che dovete fare per completare la boss fight se interagirete con l'occhio inizieremo lo step dell'occhio naturalmente noterete insomma che a intervalli regolari la stanza verrà illuminata come quando si faceva lo step dello scan per trovare i simboli del ratto lo stesso step che abbiamo fatto prima dobbiamo ripeterlo adesso dobbiamo colpire tutti quanti i simboli in maniera piuttosto rapida per farli cancellare tutti quanti da tutta la zona della boss fight quindi sparate senza curarvi troppo di risparmiare munizioni a questi simboli il mio consiglio è utilizzare le pistole iniziali potenziate perché appunto facendo danno a impatto è molto più semplice colpirli rispetto a che utilizzare invece una mitragliatrice o un'arma e appunto una volta che l'avete cancellati praticamente tutti quanti colpendoli con il fuoco su dalla parete è molto semplice sentirete di nuovo un gong esponeranno delle munizioni al centro dell'arena e quindi fatto questo possiamo passare allo step successivo che appunto richiede ancora colpire il re dei ratti quindi sparate nuovamente al re dei ratti finché anche qua non sentirete nuovamente un gong e esponeranno di nuovo questa volta soltanto due elementi ossia il cuore e il cervello passiamo allo step del cuore che forse è quello un po' più complicato perché dovrete ripulire diciamo la zona più periferica dell'arena che verrà praticamente inondata di acido acido che tra l'altro vi farà danno se voi ci starete sopra quello che dovrete fare sarà praticamente uccidere degli zombie quanti più zombie possibili insomma lì in quella zona perimetrale in modo che l'uccisione dello zombie pulisca l'acido da terra quindi l'obiettivo è fare sì che tutta la zona perimetrale rimanga senza acido quindi dovete fare delle kill piuttosto velocemente a breve distanza l'uno dall'altro per far sì appunto che la zona venga tutta quanta ripulita il prima possibile se ci mettete troppo appunto l'acido ricomparirà quindi dovrete fare nuovamente delle kill per ripulirlo passiamo ora all'ultimo step appunto ricolpite nuovamente il re dei ratti fate sì che anche qua scompaia per la terza e ultima volta a questo punto possiamo avviare lo step anche del cervello che praticamente consisterà di una difesa di questo cervello voi dovrete noterete che gli zombie andranno verso il cervello e voi dovrete concentrare il fuoco diciamo sia sugli zombie ma soprattutto sul re dei ratti un suggerimento per far più in fretta questo step utilizzate le ventole la trappola delle ventole che c'è nell'arena in modo che gli zombie così vengano insomma bloccati da questa trappola e voi potete concentrare tutto quanto il fuoco sul re dei ratti fatto questo dovreste riuscire a ucciderlo piuttosto agilmente e infine noterete che appunto partirà la cutscene in automatico e avrete completato anche questo easter egg completando gli easter egg potrete tornare di nuovo al dojo e recuperare la katana che si trova sul muro praticamente sul lato corto del dojo fatelo, notate tenetamente che sarà considerata un'arma a tutti gli effetti quindi se avete due armi senza il calcio del mulo tenetelo a mente appunto perché sostituirà l'arma che avete in mano va benissimo perché è un'arma fortissima che tra l'altro potete potenziare tutte e due le volte così come con una qualunque altra arma e con il doppio potenziamento è veramente qualcosa di bestiale perché sciotta fino a round infiniti praticamente con il corpo a corpo ma in più dopo tre colpi consecutivi diciamo farà anche, emetterà questa sorta di attacco speciale che è la tigre praticamente che salta al balzo e uccide tutti quanti gli zumi circostanti quindi veramente qualcosa di fenomenale vale la pena fare l' easter egg soltanto ragazzi per andare per round alti perché con quella katana veramente siete immortali detto questo comunque grazie per la visione un pollice in su se questa guida vi è stata utile se avete dubbi, domande, perplessità fatemene sapere qui sotto nei commenti cercherò di rispondere e fugare i vostri dubbi grazie a tutti per la visione nuovamente un saluto a Mr. Frank ragazzi noi ci vediamo con un prossimo video Ciao! 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 Ciao!